Sono davvero tanti disservizi in città a cui i cittadini nisseni devono quotidianamente far fronte. I maggiori problemi riscontrati riguardano la viabilità. Il traffico nisseno risulta essere troppo caotico a causa delle segnaletiche spesso confusionarie e come se non bastasse le strade non agevolano di certo gli automobilisti che a causa delle numerose buche presenti sul manto stradale sono costretti a manovre poco agevoli. Ma non è solo la viabilità a preoccupare i nisseni, acqua, trasporti, verde pubblico, rifiuti e molti altri disservizi sono le principali cause di lamentele da parte dei nisseni che sperano si possono risolvere al più presto con interventi concreti. Migliorato vuol dire gestire un problema come l'acqua pubblica invece di essere privata perché ci hanno fatto il business. L'acqua è, come sapete, il bene primario. Per quanto riguarda il centro storico faccio una denuncia specifica. Il centro storico pagano l'acqua, peggio del petrolio. Sapete perché? Perché ogni due giorni ci arriva mezz'ora di acqua, un'ora massima ogni due giorni. E le tariffe sono altissime. I serbatoi di Eternit, no? C'è la città, attorno alla città, che depositano le persone questi serbatoi. Il motivo per cui li depositano di nascosto è perché si paga per andarli a depositare, no? Allora, è un problema che io noto andando in giro correndo e con la bici. Allora, ci deve essere uno spazio che non si deve pagare. Guardi, una cosa è l'acqua. L'acqua che è grasso che cola se arriva un giorno sì, un giorno no. Poi improvvisamente ti dicono che è successo qualcosa, quindi non arriva l'acqua. La viabilità sicuramente, il trasporto pubblico e poi un incentivo per crescere questa città. Inserire Caltanissetta in circuiti turistici, per esempio, sarebbe una cosa bellissima. L'università, che ne è stato? La spazzatura, i rifiuti, cosa ne è stato del progetto, della differenziata e tutto qua. Le cose sarebbero tante. La circolazione da aggiustare perché ci sono alcune sensibilità che non vanno. Le strade che io, un operaio del comune, non le vedo da anni e anni. Una buca non si rappezza, un marciapiede non si rifà. Le aiuole, se prendono fuoco, allora se le faranno le sterpaglie, altrimenti restano per l'anno successivo. Non funziona niente. La gestione del servizio autobus. Io sono abituato in altre grosse città, gli autobus non funzionano molto bene. Cominciare dagli orari che non sono regolari. Io ho lavorato 15 anni fuori e sono rientrato adesso. Non è cambiato niente dai tempi di quando sono andato via. Le amministrazioni, i comunali, i sindaci, si sono soltanto veramente fatti i fatti suoi. E questo è il riflesso che abbiamo ogni giorno in TV, in politica, quello che riflette e fatto. Ci dovrebbe essere un po' di coscienza politica più che altro. Il dissesto è completamente assoluto. Ma guardi, non funziona niente completamente. Lei vede in giro cosa c'è. La disperazione, gente che... Così, anche guardarla in pace è scoraggiata già. Innanzitutto la sanità, diciamo. La sanità veramente non va bene. E poi a riguardo per le strade... E...